Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie dell'invito, grazie per questa presentazione che mi fa molto gioco, mi fa molto piacere perché in effetti vi parlerò di tutto quello che non sappiamo sull'evoluzione umana, anzi più precisamente di tutto quello che pensavamo di sapere e invece era sbagliato, questo è un classico dell'evoluzione del pensiero scientifico. Vi diceva prima Giovanni, se avete voglia questa sera facciamo un grande viaggio nel tempo, nel tempo profondo in particolare, perché vorrei cominciare proprio da questo primo passaggio, è un viaggio che ho pensato di organizzare in tre tappe, la seconda e la terza saranno quelle più vertiginose perché faremo veramente grandi passi indietro nel tempo. Però come antefatto di questa storia volevo prima raccontarvi la vicenda di un uomo che oggi è poco ricordato, che è quel signore che vedete rappresentato qui sulla destra, si chiamava Charles Lyell e i geologi sanno bene chi è, è stato uno dei fondatori della geologia moderna. Il signore invece che vedete qua a sinistra è un grandissimo scrittore di scienza, non soltanto di scienza, è un grandissimo giornalista e scrittore, John McPhee che ha scritto un libro bellissimo intitolato proprio, diciamo un libro sul tempo profondo. E John McPhee in questo libro dice una cosa secondo me molto giusta e intelligente, che secondo me è un po' un'icona anche di tutto questo ciclo di incontri sul tempo. McPhee dice ricorda un famoso episodio 1914, Sigmund Freud in un saggio poco noto scrisse questa frase, disse l'età moderna e contemporanea è figlia di tre grandi ferite narcisistiche, è figlia di tre grandi scoperte scientifiche che ci hanno fatto del male, che hanno rovinato il nostro antropocentrismo e il nostro narcisismo. La prima è quella di Galileo, che ci ha spodestato dal centro dell'universo, dicendoci che siamo aggrappati su un sasso che ruota intorno a una stella qualsiasi di una galassia, qualsiasi di un ammasso qualsiasi dell'universo. La seconda ferita narcisistica naturalmente è quella di Charles Darwin, che ci ha spodestato dal centro dell'evoluzione e della creazione, facendo vedere che siamo una specie in mezzo a tanti milioni di altre forme viventi, e questo pure non ci piace, disse Freud. E poi Freud nel modo più immodesto possibile disse la terza ferita narcisistica, la mia, di Sigmund Freud, perché io vi ho spodestato addirittura dalla vostra testa, non siete più padroni non soltanto nell'universo, non soltanto nell'evoluzione, ma anche dentro la vostra testa, perché siete naturalmente, pensavo a lui, dominati dall'inconscio e da pulsioni che non potete controllare. John Mephi, giustamente, dice che Freud, in questa immodesta frase, ha dimenticato una quarta ferita narcisistica, altrettanto importante, altrettanto profonda, ed è quella della scoperta, fatta dai geologi tra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, del tempo profondo. E dobbiamo, gran parte di questa scoperta, proprio a questo signore che è Charles Lyell. Cos'è il tempo profondo? È la scoperta che la Terra è un sistema molto più antico di quanto non si pensasse a quel tempo, che sicuramente la superficie del nostro pianeta è più vecchia dei 4.000 e passa anni calcolati dalla cronologia biblica, e che, come disse una volta Charles Darwin anche stesso, nei suoi taccuini, la nostra vita e la presenza degli esseri umani sulla Terra è come una sottile pellicola, disse Darwin, che galleggia sopra un oceano di tempo sterminato. Una sottile pellicola, siamo noi, sopra, che galleggia, fragile, sopra un oceano sterminato di tempo. Quello è il tempo profondo. Questa è una scoperta che ha richiesto decenni, naturalmente, ci ha avuto tanto tempo, tante ricerche, non solo da parte dei naturalisti, e questo Charles Lyell, che qui vedete rappresentato da giovane, in uno dei volumi del suo libro famoso, il suo capolavoro, che è proprio I principi di geologia, vedete, scrive questa cosa, questa visione dell'immensità del tempo trascorso, simile a quelle svelate da Newton in relazione allo spazio, erano troppo vaste per suscitare idea di sublimità, che non fossero mescolate a un senso doloroso della nostra incapacità di concepire un piano di una tale infinita estensione. Qui Lyell sta dicendo, questa scoperta della profonda, grandissima, vertiginosa antichità della Terra, ci disorienta, ci lascia attoniti. Si vedono mondi al di là di altri mondi, a distanze incommensurabili l'uno dall'altro, e al di là di essi, innumerevoli altri sistemi sono tracciati debolmente sui confini dell'universo visibile. Così come, traduciamo, Newton ci ha detto che siamo un piccolo puntino dentro uno spazio infinito, spazio assoluto di Newtoniano, io e i miei colleghi geologi vi stiamo dicendo che siamo un piccolo puntino dentro un tempo sterminato. E guardate che molta, molto dell'età contemporanea, molto della rivoluzione scientifica è legato a questa scoperta, della infinità dello spazio, della vastità sconfinata del tempo e dello spazio, che ci lascia, dice Lyell, un doloroso senso di incapacità. Questo è il suo sono figure tratte dal suo libro, vedete lui cosa fa a questo punto, dice però noi scienziati non possiamo fermarci al disorientamento, dobbiamo cercare di capire questo tempo profondo, dobbiamo cercare di fare scienza del tempo profondo. Lui ci prova e inventa un metodo che poi ha avuto un grandissimo successo, importantissimo, che si chiama uniformismo o attualismo, dove vedete, questo è il sottotitolo dell'opera, come faccio io geologo a capire che cosa è successo in tutto questo spazio sterminato che ho davanti di ere temporali, di ere geologiche. Cerco di osservare quello che succede oggi sulla Terra e lo applico o lo moltiplico a quello che può essere successo in passato. Quindi l'idea è quello che io vedo oggi, l'erosione, sedimentazione, gli agenti atmosferi, il vulcanismo e così via, è quello che io osservo oggi è un processo molto lento che si è sempre realizzato nel corso del tempo e quindi posso fare scienza di questo tempo profondo. Quindi l'idea che leggi di natura siano sempre state valide, che il processo sia stato uniforme e anche il cambiamento sia sempre stato sostanzialmente con la stessa velocità. Quindi questa idea che noi siamo l'ultima tappa, l'ultimo quarto d'ora di una storia antichissima, però abbiamo una chance, perché quello che sta succedendo in questo quarto d'ora è quello che forse è sempre successo e ci basta moltiplicare quello che è successo oggi per capire quello che è successo sempre in passato. Oggi sappiamo che questo non è del tutto vero, però è stato uno dei primi tentativi di cercare di capire il senso del tempo profondo. Questa è una curiosità, Lyle era della scuola britannica e se la prende con i suoi nemici francesi, anche Darwin ce l'aveva sui francesi, erano i grandi avversari della scuola anglosassoni, i francesi invece come Georges Cuvier erano convinti che il tempo profondo fosse stato caratterizzato non da un lento accumulo di piccoli mutamenti, ma da grandi catastrofi, da grandi stravolgimenti, quelli che a quel tempo venivano chiamati rivoluzioni del globo. I francesi ne avevano appena avuta una di rivoluzione, se ne intendevano abbastanza. Gli inglesi l'avevano avuta nel seicento si erano già dimenticata. Vedete qua Lyle dice ai francesi che pensano che il mondo sia stato prodotto da delle catastrofi, sono degli indolenti, sono dei pigri mentalmente, perché chi ragiona così non sta spiegando davvero il tempo profondo, sta soltanto tagliando il nodo di Gordio anziché scioglierlo, anziché spiegarlo. Il suo nemico era questo signore qua, un altro grande maestro del tempo, del tempo non di allora, del senso del tempo, grande scienziato del tempo, Georges Cuvier, grande paleontologo, anatomista francese, se andate a Parigi o siete già stati potete vedere nel Museo di Paleontologia di Parigi tutti i reperti da lui raccolti. E vedete, lui scrive questo libro, vedete, sul discorso sulle rivoluzioni della superficie del globo, no? E lui che cosa vede? Questa è una delle sue pagine, una delle più belle, Cuvier era un grandissimo osservatore, era un grandissimo analista, e scavando nel bacino della senna si rende conto che andando indietro nel tempo, questa è proprio una rappresentazione plastica del tempo profondo, lo vedete proprio, no? Perché se tu ti accorgi, tu riesci a calcolare quanto tempo ci vuole per avere tutta questa, tutta questa colonna, ti rende conto che noi che siamo qua in alto, appunto, siamo come una pellicola che galleggia sopra un oceano di tempo profondo. E lui pensa che qui ci siano, vedete, queste grandi cesure e dice, beh, queste grandi sostituzioni di flore e faune sono delle rivoluzioni che ogni tanto interessano la Terra, stravolgono tutto, e le flore e le faune che ci sono in una certa fase sono diverse da quelle che si trovano nella fase successiva o nella fase precedente. Qui vedete all'opera due grandi scienziati, una inglese e una francese, che cercano di addomesticare il tempo in due modi diversi. Il gradualismo, da una parte, inglese, contro il catastrofismo dei francesi. E questa è una curiosità che vi faccio vedere, perché Charles Lyle, come tanti altri gradualisti, era così convinto che il tempo profondo fosse una lenta ripetizione sempre delle stesse regole, delle stesse leggi, che in un passo molto bizzarro, per noi molto bizzarro, Lyle disse una volta, e poi non è escluso, che un giorno possano ricomparire gli etiosauri, i plesiosauri e un sacco di dinosauri vari sparsi in giro per il mondo potrebbero ritornare. E questo è un francese che subito si vendica, Henri de Labèche, e fa questa vignetta dove c'è il professor Etiosauro. Guardatelo bene, perché poi vi farò vedere questa vignetta in chiave umana. C'è il professor Etiosauro, qui non ve lo leggo, farà veloce, c'è il professor Etiosauro che sta facendo lezione agli altri Etiosauri e qua sotto dice, vedete, una volta sulla Terra c'erano questi strani animali, chiamati umani, ma chiaramente non potevano avere successo, infatti si sono estinti, perché avevano dei denti estremamente pessimi, una dentatura pessima, poi sangue caldo, avevano sempre caldo, producevano da sé il loro calore internamente, gente strana, infatti si è estinta, e noi siamo quelli predestinati a dominare l'evoluzione. Questo per prendere in giro l'idea dell'eterno ritorno che si era fatto Lyle, però vedrete che questa è una vignetta che potrebbe tornarci utile poi per la storia che vi racconto dopo. Quindi, tempo profondo, grande disorientamento, come facciamo a capirlo, come facciamo a orientarci dentro questo tempo profondo? Lo ha detto, credo, nel modo più sagace e sarcastico possibile un grande scrittore, Mark Twain, questo è uno dei passaggi che a me piacciono di più di Mark Twain, il quale, alla fine dell'Ottocento, intervenendo proprio su questo dibattito, fa un ragionamento sul fatto che l'uomo, Homo sapiens, una volta capito che è l'ultimo quarto d'ora di una lunghissima storia, cosa ha fatto? Essendo antropocentrico per definizione, ha cercato in tutti i modi di dare una rappresentazione del tempo che desse un senso alla sua presenza qui oggi. Guardate come la mette giù Mark Twain, che è geniale, dice, l'uomo esiste da 32.000 anni, era la datazione che c'era allora, che voleva dire tutto sommato poco. Il fatto che ci siano volute centinaia di milioni di anni, questo era scoperto a quel tempo, per preparare il mondo per lui, è una prova del fatto che esso fu creato per l'uomo. Suppongo che sia così, non lo so di sicuro, e propone una metafora. Se la Tour Eiffel rappresentasse l'attuale età del mondo, lo strato di vernice sulla punta del suo pinnacolo rappresenterebbe l'adulata dell'uomo, e tutti percepirebbero che quel sottile strato fu ciò per cui fu costruita la Torre. Io credo che lo percepirebbero, ma non lo so di sicuro. Beh, qui Mark Twain ci sta dicendo una cosa, in modo spiritoso, però molto intelligente, molto profonda, cioè noi continuiamo a pensare o a sperare di essere non soltanto un normale qualsiasi strato di vernice sopra la Tour Eiffel, ma ci piace pensare che la Tour Eiffel sia stata fatta per metterci sopra quello strato di vernice. Allora adesso vi farò vedere perché noi scienziati pensiamo che questo modo di vedere l'evoluzione umana sia leggermente sbagliato. E vi farò vedere come questa frase di Mark Twain si applica molto bene al modo con cui gli scienziati stessi, i miei colleghi, fino a 30 anni fa, neanche tanto, 25 anni fa, spiegavano l'evoluzione umana, cioè la nostra storia, il tempo dell'umanità, perché poi dentro tutto questo si colloca a un certo punto la nostra storia. E guardate che questa metafora da Tour Eiffel è molto efficace perché voi potete fare anche per esempio un esempio classico, è quello dell'anno solare, no? Noi sappiamo che la vita sulla Terra è apparsa circa 3,75 miliardi di anni fa, forse anche un pochino prima, 3,75 miliardi di anni fa, ok? Cioè adesso immaginate che 3,75 miliardi di anni sia come un anno solare, 12 mesi, 365 giorni, la stragrande maggioranza di questo anno, fino a Natale, non vede la presenza di organismi particolarmente complessi, fino a Natale. Cioè è come se voi immaginate di avere un anno di vita da calcolare e fino a Natale lo passate con una vita sostanzialmente unicellulare, virus, batteri, qualche colonia batterica. Dopo Natale succede di tutto, dinosauri, l'estinzione dei dinosauri, una grande corsa, Homo sapiens viene fuori pochi secondi prima della mezzanotte. Naturalmente vale la stessa metafora. Un anno di questo tipo? Come facciamo a concepirlo come se tutti quei 365 giorni fossero passati proprio per quegli ultimi secondi prima del botti di mezzanotte? Ecco noi siamo quegli ultimi secondi prima del botti di mezzanotte. E parafrasando un altro famoso Andy Warhol, la domanda che vi farò alla fine è abbiamo avuto il nostro quarto d'ora di celebrità. Ce lo stiamo giocando bene? Come vogliamo giocarci nel futuro? Sapendo che è un quarto d'ora rispetto a una storia antichissima. E allora la mia seconda tappa del mio viaggio è questa. Poi ce ne sarà una terza che cercherà di rispondere proprio alla domanda che faceva Giovanni nella introduzione. Cioè perché siamo soli noi sulla terra come esseri umani? Vedrete che è strettamente legata a quello che vedremo adesso. Allora Paul Valéry diceva il futuro non è più quello di una volta e anche l'evoluzione umana non è più quella di una volta, letteralmente. Nel senso come diceva Giovanni prima, gli anticipava, è cambiato un po' tutto nella storia dell'evoluzione umana. Abbiamo abbandonato certi modelli semplicistici che valevano fino a qualche anno fa. Andate su Google questa notte o domani mattina, in inglese mettete Human Evolution, mettete la sezione Immagini, provate a fare questo esercizio, vi si apre una schermata infinita con migliaia di immagini tutti uguali. Uno scimmione peloso, curvo, torvo, chiaramente poco intelligente, che diventa un pochino più eretto, poi comincia a perdere il pelo, poi gli viene una testa grossa, poi diventa un Neandertal e poi improvvisamente culmina in un maschio, sempre, bianco, bello, con i capelli, in perfetta forma, un George Clooney, perfetto. E questa è l'immagine classica che noi abbiamo dell'evoluzione umana. Come se, state attenti perché questo è l'esercizio che voglio fare, come se la Tour Eiffel fosse stata costruita per l'ultimo straterello di vernice, che è quel George Clooney che vedete alla fine. Voglio farvi vedere perché è poco plausibile questo, non tanto dal punto di vista filosofico, ma già sarebbe sufficiente, ma proprio da un punto di vista scientifico. E cominciate, diciamo, a vedere un po' insieme, questo è il cespuglio nuovissimo che abbiamo appena fatto, aggiornato al 2017, della filogenesi umana, cioè della storia che ha portato fino a noi. E vi farò vedere fra poco che noi siamo, forse un po' sfocato, ma insomma, siamo questo piccolo ramoscello che vedete in alto a destra. Questa storia, ancora una volta, dovete sempre immaginare gli strati del tempo, è cominciata circa 6-7 milioni di anni fa da queste parti. Non sappiamo bene come, dove, sappiamo in Africa, ma non conosciamo l'antenato comune tra noi e gli scimpanzè. Qui è vissuto da qualche parte qui, gli scimpanzè vanno per conto loro e oggi noi vediamo gli ultimi rimasugli di una storia molto antica che è la loro, no? Quindi mi raccomando, quando voi in un giardino zoologico guardate negli occhi uno scimpanzè, non state guardando negli occhi vostro nonno, a proposito della nonna di prima, state guardando negli occhi vostro cugino. E cosa avete in comune con vostro cugino? No, un nonno. Ok? Nel senso che tu e lui avete fatto una strada separata da 6 milioni di anni di storia, ma andando indietro e indietro fino a 6 milioni di anni fa si incontra un punto in cui avevete un nonno in comune, cioè una popolazione da cui siete venuti fuori, sia voi che lui. Quindi è un vostro cugino, non è un vostro nonno. Quindi noi non discendiamo dagli scimpanzè, noi siamo cugini degli scimpanzè, ok? E insieme discendiamo da un antenato comune vissuto intorno a 6-7 milioni di anni fa. E poi guardate cosa è successo. È successo di tutto. In 6 milioni di anni c'è stata un'esplorazione di possibilità evolutive, adattative, umane, ominine, il termine è corretto, strabiliante. Questa è una filogenesi unica, difficile trovare una filogenesi ricca nei primati, che ha portato, vedete, alla formazione, noi pensiamo, di almeno 24-25 specie diverse. E di queste specie umane, vedete, di questa pluralità di specie umane dura fino a tempi molto recenti, come vi preannunciava prima Giovanni, fino a pochissimo tempo fa, vedete questo ramo, questo, 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 sono tutti rami recenti che convivono lungamente con Homo sapiens. Adesso vorrei farvi vedere come siamo arrivati fino a questo, fino a questo modello, che ci dice appunto, come avete già sentito, che, facciamola semplice, e adesso torniamo sempre al tema del tempo, eh, l'esercizio del tempo. Fino a 50 millenni fa, mettiamola così, forse è più semplice da capire, 50 millenni fa, su questo pianeta esistevano almeno quattro specie umane contemporaneamente, che circolavano liberamente sul pianeta. Noi Homo sapiens, i Neandertal, l'uomo di Denisova, e in Asia un piccolo omino pigmeo chiamato Homo floresiensis, ok? 50 millenni, se facciamo un calcolo a spanne che una generazione umana, mediamente, calcolando l'aspettativa di vita di una volta, sia 25 anni, dal papà al figlio, no? 25 anni, fate due conti, sono 2000 generazioni. Quindi io, mio nonno, il nonno di mio nonno, il nonno di mio nonno, come fatto l'esercizio prima dei bambini, moltiplicato solo per mille volte, il mio millesimo nonno di nonno è vissuto su un pianeta in cui giravano altre forme umane, e ha incontrato altre forme umane, ed ha vissuto insieme con altre forme umane. Sembra tanto tempo, ma se lo guardate così, da puntista generazionale, non è affatto tanto tempo. Homo sapiens, noi, siamo nati in Africa 200.000 anni fa, lo sappiamo con molta precisione. 200.000 anni sono 8.000 generazioni umane. Quindi 8.000 generazioni fa è successo qualcosa dietro la quale non ci sono più Homo sapiens, non so se riuscite a capire. Quindi Homo sapiens, noi, siamo un'entità nata in un certo momento che prima non c'era. E il mondo, aggiungo io, avrebbe potuto benissimo fare a meno di noi. Su questo siamo abbastanza d'accordo. No, il mondo avrebbe proliferato magnificamente senza di noi. Però ci siamo, e quindi dobbiamo approfittare, perché io poi non sono un nichilista, ci siamo e dobbiamo approfittare della straordinaria occasione che abbiamo avuto di esserci qua, su questo pianeta, con la nostra consapevolezza, la nostra capacità di studiare poi questo pianeta, che è una cosa bellissima. Quindi le cose non sono andate così, d'accordo? Fin qua ci siamo. Questo è il modo migliore per rappresentare questa cosa, questo modello, cioè la caricatura, questa è quella dei Simpson, proposta da Matt Goering, dove l'evoluzione culmina inevitabilmente in Homer Sapiens, con un grado di encefalizzazione però abbastanza deludente. Questa immagine c'è dappertutto, io mi ricordo, è registrata questa cosa, quindi devo usare dei termini. Insomma, comunque, a Padova, se voi entrate a Padova, c'è il ponte Darwin, no? Che, voglio dire, è una cosa bellissima dedicare un ponte a Darwin, però sopra la scritta ponte Darwin c'è proprio la carrellata del progresso dell'evoluzione umana simile a questa, no? Avete avuto l'occasione di dedicare un ponte a Darwin e poi vanificato completamente con l'immagine più sbagliata che ci sia dell'evoluzione umana, quindi non ne usciremo mai. A me è capitato spesso di scrivere sui giornali degli articoli dove spiegavo, l'evoluzione umana non è stato un progresso lineare, non è stato un anello dopo l'altro, non è stata quella famosa immagine che vedete. Poi l'articolo usciva il giorno dopo con l'immagine dell'evoluzione umana tirata su, quindi è un'immagine potentissima questa che ci piace un sacco da pensare, no? E tornate sempre a Mark Twain che vorrei forse un po' la guida di questo viaggio. Allora adesso voglio brevemente, usando delle scoperte tutte molto recenti, farvi fare questo viaggio nel tempo, farvi capire come siamo arrivati a quel cespuglio lì e a farvi capire anche un'altra cosa, se riesco, se ho tempo, farvi capire quanto questa storia che sto per raccontarvi è importante per capire chi siamo noi oggi e perché noi siamo come siamo e perché siamo qui da soli come esseri umani e forse, adesso non voglio esagerare, ma insomma questa storia ci dice anche qualcosa sulla domanda delle domande, cioè che cosa ci rende umani a noi? Cioè che cos'è che è tipico del nostro essere umani, che ci distingue, non ci rende eccezionali, ma sicuramente ci distingue da ogni altra forma vivente? Cos'è che rende noi umani a modo nostro? Allora per cominciare a rispondere a un po' di queste domande vi parto da una scoperta molto recente, questa è uscita un anno fa su Science, una scoperta bellissima, anche se è passata pressoché inosservata, è una scoperta fatta da un team mitico di paleontologi e zoologi russi, quelli di Tikhonov, sono i cacciatori di mammut, avrete sentito parlare un po' di queste storie mitiche, sono questi che vanno in Siberia e cercano nel permafrost che si sta sciogliendo le tracce dei mammut che si sono estinti migliaia di anni fa e spesso ne trovano, hanno trovato una cucciola bellissima, gli uva, molto molto ben conservata, ancora con un sacco di parti molli conservate, dalle quali sono riusciti a estrarre il DNA, il genoma, adesso noi abbiamo il genoma completo del mammut, di una specie estinta e, parentesi, c'è già qualcuno che sta pensando di risuscitare il mammut, cioè di usare questo genoma per cercare di fertilizzare, per cercare di far crescere, di fertilizzare una cellula uovo di un'elefantessa indiana e se ci riescono dovrebbe venire fuori un individuo che ha lo stesso genoma di gli uva e di un mammut estinto. Molti hanno dubbi su questa tecnica, se sia davvero il caso di farle, meno questa cosa, comunque forse è meglio spendere tutti quei soldi per evitare che le specie si estinguano, piuttosto che risuscitarle dopo che si sono estinte, però questa è una questione politica, che non c'entra niente con questa scoperta, questa è la scoperta tra di per sé, tra le tante, hanno trovato un nuovo mammut bellissimo, un giovane maschio, coricato, vedete qui la cassa toracica, in un punto pazzesco, siamo nell'estuario del fiume Ienisei, nel mare di Cara, siamo nell'oceano artico, ha una latitudine pazzesca, che è due gradi e mezzo più a nord di Caponordi in Europa, tanto per darvi l'idea. Quello è un posto disabitato completamente adesso, hanno fatto questa scoperta a pochi chilometri a nord di una stazione meteorologica russa e adesso, che siamo in una fase, diciamo, tiepida, il momento più confortante dell'anno, in quel posto lì, ha una temperatura di meno 22 gradi, il momento più caldo, ok? Immaginatevi cosa poteva essere vivere in quel posto in un'epoca glaciale, ok? Dopo capirete perché vi dico questi dati. Allora, la scoperta, vedete questo giovane maschio, naturalmente quando si scopre un giovane maschio in perfetta forma morto, la prima domanda è perché è morto di morte naturale o no? No, naturalmente è stato cacciato, tant'è che sono stati trovati tutti i segni della spolpatura, perché del mammut non si buttava via niente, naturalmente, si teneva tutto e quindi lo hanno ucciso e lo hanno spolpato. Anche le zanne, vedete, tagliate, poi dalle zanne hanno ricavato anche gli strumenti appuntiti e così via. La tecnica di caccia è estremamente sofisticata, perché sapete, il mammut è un animale estremamente pericoloso, molto grande, quindi la cosa migliore qual'era? Una caccia di gruppo, quindi sicuramente è stato scacciato da un gruppo umano, rimanevano a distanza e con delle lance, con dei propulsori, lo hanno colpito in alcuni punti critici alla base del collo, alla base del tronco, lo hanno colpito 4-5 volte e poi non hanno fatto altro che aspettare, lo hanno inseguito per decine e decine di chilometri. L'animale si indebolisce, perde sangue, resiste, resiste anche per giorni, alla fine, alla forza di perdere sangue a caso delle ferite, crolla e quando crolla gli saltano addosso e lo finiscono. È una tecnica usata da cacciatori e raccoglitori già nota. E così hanno ucciso questo giovane maschio di mammut. Ma perché una ricerca di questo tipo è andata su Science? Fin qui non meritava di andare su Science, perché è una scoperta come già fatte tante altre. Beh, è andata su Science per questo numerino che vedete qua in alto, cioè questa cosa che vi ho appena detto, questa brutale scena di caccia al mammut è avvenuta sul mare di Cara, nell'Oceano Artico, 45.000 anni fa. Adesso vi prego di segnare nella memoria questa data, 45.000 anni fa. 45.000 anni fa è più di 20.000 anni più vecchia dell'ultima, della più antica datazione di presenza umana da quelle parti. Quindi una retrodatazione pazzesca. 45.000 anni vuol dire che quella gente, i nostri antenati, che ha fatto quella caccia, riusciva a vivere da quelle parti anche nell'epoche glaciali, perché l'ultima è stata 18, poi finita l'ultima era glaciale 11.400 anni fa. E naturalmente da una scoperta di questo tipo tu puoi dedurre due cose. Chi ha fatto questo aveva una capacità di adattamento pazzesca, cioè un'adattabilità straordinaria, stare a meno 30 gradi a inseguire un mammut, farlo fuori, portarselo negli accampamenti e usarlo tutto. E poi una mobilità formidabile, una capacità di spostamento, di dominio del territorio formidabile. E la domanda è, ma la questa non rispondo, questa domanda io non sono capace risponde, ma chi glielo faceva fare a questi qua? Perché dovevano dei gruppi umani già 45.000 anni fa vivere nell'Oceano Artico? E guardate che è una domanda banale, perché fate due conti ancora. Noi antropologi sappiamo che tutti gli esseri umani che oggi abitano sulla Terra, noi Homo sapiens, non africani, quindi quelli che abitano fuori dall'Africa, veniamo fuori tutti da un'ultima migrazione, un'ultima espansione fuori dall'Africa avvenuta circa 60.000 anni fa. 60-65.000 anni fa, non di più. Questo vuol dire che 15-20 millenni dopo, dei cacciatori africani cacciano un mammut nell'Oceano Artico. Se volete un'immagine fisica di questa cosa, immaginatevi un gruppo di cacciatori masai, ok, che cacciano un mammut nell'Oceano Artico. Voi dite, sei fuori di testa. Eppure è quello che è successo. Questi qua erano dei cacciatori, raccoglitori africani, usciti 20-15 millenni prima, che riescono a fare questa cosa. E questo vuol dire adattabilità, mobilità e sostanzialmente capite una cosa importante, un gruppo umano che è capace di fare questa cosa 45.000 anni fa non ha più limiti. cioè può andare dove vuole. La Terra, il pianeta Terra, per un gruppo umano di questo tipo non ha più limiti, non ha più confini. Se riesci a sopravvivere e fare questa cosa puoi andare dove vuoi, tranne forse superare gli oceani, andare nell'Antartico, cosa che non siamo riusciti a fare. Ma sostanzialmente ho in cima l'Himalaya, ma a parte questo puoi cavartela pressoché ovunque. Quindi teniamo a mente questa scoperta. 45.000 anni fa sono capaci di fare questa cosa. Adesso provate a confrontare questa scoperta che vi ho appena raccontato con un'altra, anche questa appena pubblicata, un anno, quasi due anni fa ormai, su Nature, questa, verificata e riverificata 3.000 volte perché non ci volevamo credere. L'articolo qui cominciava con abbiamo trovato arte rupestre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Scusateci, ma i conti non tornano più. Perché su tutti i libri di scuola c'è scritto che l'arte rupestre e la rivoluzione paleolitica sono nati in Europa, grazie a Cro-Magnon, ai Sapiens arrivati in Europa, che hanno fatto Chauvet, Lascaux, Altamira, questi meravigliosi santuari dell'arte rupestre. Eravamo convinti che fosse successo a tutti in Europa. Era l'ultimo record, tra l'altro, che avevamo noi europei, quello di aver inventato l'arte rupestre. Abbiamo perso anche questo perché si scopre che esisteva arte rupestre in un posto assolutamente sperduto, in cima a una delle penisole dell'isola di Sulawesi, che sta a metà tra il Borneo e la Nuova Guinea, quindi siamo nell'estremo oriente, nell'isola delle spezie, e in un sito chiamato Maros, in questa penisola, è stata trovata pittura rupestre molto sofisticata, animali, questo è un babirussa, rappresentato mentre scende da un pendio, con la sua bella pelliccia, il suo movimento del pelo, ok, all'indietro, altri animali, e sempre, anche qua, proprio come in un sacco di arte rupestre europea, le mani, le mani in negativo. Mani quasi sempre alla sinistra, perché evidentemente armeggiavano con la destra, poi mettevano il pigmento in bocca e spruzzavano sulla parete, mettendo in negativo la mano, sono mani maschili, ma anche mani femminili, e sempre ci sono mani di bambini, mani di cuccioli, segno che quando succedeva questo, c'erano gruppi, interi gruppi sociali, ovviamente i bambini volevano, anch'io voglio mettere la manina, e noi non siamo in grado naturalmente di interpretare il significato di questi comportamenti, però tutto lascia pensare che questa mano messa qui voglia dire l'ho fatta io questa cosa qua, io, questa è la mia mano, io sono l'artista che ha fatto questa cosa, quindi è un segno naturalmente di autoindividuazione, di consapevolezza, e così via. Però non è di questo che voglio parlare, questa è una scoperta interessante per tante ragioni, anche qua è la datazione che conta, queste pitture rupestri, questi graffiti e pitture rupestri hanno 40 mila anni, cioè sono di diverse migliaia di anni più vecchie di tutte quelle che abbiamo trovato in Europa, e quindi c'era arte rupestre prima che in Europa e da tutt'altra parte del mondo, in Estremo Oriente. Anche qui nascono tante domande, Giovanni l'ha detto all'inizio, vi farò vedere tutto quello che pensavamo di sapere, e adesso invece cominciamo ad avere dei dubbi su tante certezze che avevamo in passato, perché a questo punto la domanda legata a questa scoperta recente è ma chi erano questi? Chi erano questi artisti? E perché Asula Uesi? Però adesso fate anche un altro esercizio, confrontate questa scoperta con il mammut che vi ho appena fatto vedere prima, il mammut è soltanto di 5 mila anni prima di questa, quindi diciamola così, tra 45 e 40 mila anni fa ci sono gruppi umani che alcuni stanno a meno 30 gradi al polo nord e altri stanno in un'isola tropicale, estate tutto l'anno, umidità non so quale percentuale, dentro la foresta su un'isola, sperduti a Asula Uesi e fanno arte rupestre. Ecco potrei fermarmi anche qua volendo, nel senso che questi siamo noi, questo è ciò che ci rende umani, datevi voi la risposta poi su cosa vuol dire, l'inventività, la creatività, l'invasività, perché c'è anche questo, essere migranti, essere mobili, però queste due scoperte ci dicono tanto su ciò che siamo noi. Nessun animale è capace di fare queste cose qua, lo dico da darwiniano convinto evoluzione, ma nessun animale fa queste cose qua, nessun animale gli viene in mente di campare in un modo pazzesco al polo nord quando è nato in Africa, pochi millenni prima, cioè poche decine o centinaia di generazioni prima, e a nessun animale gli viene in mente che un gruppo sta al polo nord e l'altro gruppo fa pittura rupestria sulla Uesi, nessun animale fa una cosa del genere, quindi lì se noi riusciamo a capire bene cos'è successo che ci ha portato ad essere capaci di fare questo, capiamo qualcosa in più, una virgola in più, su ciò che ci rende umani. Allora adesso facciamo un viaggio veloce, vi faccio capire, tra l'altro questa è una scoperta che ci ha fatto molto piacere perché è una scoperta che conferma un modello che noi a Padova, sul quale noi a Padova lavoravamo da tempo. E il viaggio è presto fatto, noi siamo qui, naturalmente sempre, Homo sapiens, questa è un po' la mappa della nostra storia, il tempo dell'umanità, e tutta la questione sta nel capire scientificamente come si fa ad arrivare da questo punto, vedete questo è un momento dell'evoluzione umana molto significativo perché avete una grande diversificazione di forme straordinaria ed è quella che è avvenuta tra due e tre milioni di anni fa. Questa è Lucy, questo è l'Homo habilis, queste sono le specie sudafricane, però ci sono anche i parantropi, i keniantropi, insomma è un momento di grande diversificazione. Vedete, da questa grande pancia, questa grande esplosione di forme, sopravvivono soltanto queste righe che vedete in violetto e blu, che sono Homo, cioè il nostro genere, questo è il genere Homo, e noi siamo naturalmente uno dei ramoscelli del genere Homo. Vi faccio notare una cosa interessante, vedete che se voi partite da Homo sapiens e andate indietro, questo è l'Homo idealbergensis, questo è l'Homo ergaster, questo è l'Homo erectus, che, a differenza di quanto c'è scritto in tutti i libri, non è un nostro antenato, ma è un cugino asiatico, vedete, vedete che andando indietro c'è un punto in cui la linea diventa tratteggiata e c'è un bel punto di domanda, perché rispetto a quello che pensavamo qualche anno fa, oggi, non sappiamo da dove è nato il genere Homo, non lo sappiamo, perché non siamo più sicuri se è nato da qua, cioè dalle forme etiopiche, diciamo, dell'Africa cento-orientale, o se è nato da qui, cioè dalle forme sudafricane. Quindi c'è un'incertezza in più che dobbiamo cercare di risolvere con nuove scoperte, nei prossimi anni. Però questo ve lo faccio notare perché è sempre un po' quello che Giovanni vi diceva all'inizio, che io ridico in questo modo. Questo è un modello, che noi usiamo oggi, molto più informativo dei modelli del passato, cioè sappiamo un sacco di cose in più, ma nel sapere un sacco di cose in più sono nati un sacco di punti di domanda nuovi, ok? Questo è tipico del buon metodo scientifico. Nel metodo scientifico i punti di domanda nel corso del tempo aumentano, non diminuiscono. So che può sembrare un paradosso, ma la scienza è questa cosa qua. È un processo in cui più cose sai, più ti rendi conto che non ne sai molte di più, ok? E quindi noi oggi abbiamo un sacco di domande nuove, una delle quali è proprio perché siamo rimasti da soli noi qua in alto. È una domanda che vent'anni fa era insensata. Se uno studente l'avesse posto al suo professore universitario, il professore l'avrebbe preso per matto. Com'è? In che senso? È ovvio che siamo noi da soli. Siamo i dominatori del pianeta, siamo i più intelligenti, più adatti. È ovvio che siamo rimasti da soli. Ma quando scopri che fino a un quarto d'ora fa c'erano quattro forme umane, spiegare perché siamo rimasti da soli proprio nell'ultimo minuto, sempre il solito strato di vernice, diventa molto difficile. Come si passa allora da questa diversità a Homo sapiens? Si passa attraverso due ingredienti. Una è l'instabilità climatica, il fatto che il pianeta Terra da due milioni e mezzo di anni fa ha vissuto continuamente oscillazioni climatiche. E quindi noi viviamo da un sacco di tempo in un contesto di instabilità ecologica. Il mondo cambia, le fasce di vegetazione si spostano, i deserti diventano praterie e poi tornano deserti, le isole diventano penisole e poi tornano isole. Insomma, è tutto un movimento. In questo movimento una delle strategie più importanti per sopravvivere è o stai fermo al tuo posto ma sei molto flessibile e al primo cambiamento troppo radicale non ce la fai, oppure cosa fai? Ti sposti, insegui le risorse e cerchi di inseguire l'habitat che a te è più congeniale. La risposta umana è stata proprio la seconda, cioè il migrare. Per cui se voi guardate questa mappa, vedete una cosa molto importante, una fotografia questa di un evento che è durato in realtà a 200.000 anni, quindi immaginatevi un processo molto lento, che cosa succede? Che a macchia d'olio, popolazioni nate in questa zona, sempre nel corno d'Africa, cominciano ad espandersi verso sud, verso nord, vedete che seguono il corridoio del Nilo, salgono, arrivano nel Mediterraneo meridionale, poi in Medio Oriente, e dal Medio Oriente si smistano in tre direzioni, uno verso l'estremo Oriente, la Cina fino all'isola di Java, una verso nord, nel Caucaso, e una poi, un po' più tardi, piega verso Occidente ed entra in Europa. Questa è stata la prima grande autofefrica, il primo grande processo di espansione di popolazione umana fuori dall'Africa. Cosa c'entra questo col cespuglio? È presto detto, perché in una mappa, in un processo di questo tipo, cosa succede? Che tu parti con una specie, che è quella africana di partenza. Quando è finito il processo, tu ti trovi con popolazioni umane che stanno a Pechino, uso i termini moderni per farmi capire, a Java, in Sudafrica e in Spagna. C'è un'espansione geografica così potente che quelle popolazioni non si incontreranno mai più. C'è una frammentazione troppo forte. Allora cosa succede? Si interrompe il flusso genico, le popolazioni vanno alla deriva una con l'altra, sviluppano mutazioni divergenti, e alla fine diventano sottospecie e poi specie diverse. Quindi il risultato di questa mappa è che tu parti con una specie e alla fine del processo ne hai una, due, tre, forse quattro, forse cinque. Da uno a quattro. È così che si forma il cespuglio, no? È così che si forma quella filogenesi così ramificata che vi ho fatto vedere prima. Quindi vedete? Questa è la storia che porta da una, che è questa, a due, questa, proresensis, tre. Ok? Almeno quattro. Da uno a quattro, d'accordo? Questo poi è conservativo, ma forse ce ne sono anche di più. Poi la storia si ripete. E così impariamo a capire un po' cos'è successo nel tempo dell'umanità. Questa cosa qua, le migrazioni. Le migrazioni sono il fattore chiave per capire l'evoluzione umana. Di nuovo, vedete, è passato molto tempo. Quella di prima è successa all'incirca due milioni di anni fa. Questa succede ottocentomila anni fa. È passato più di un milione di anni. Però il processo si ripete. Di nuovo, una popolazione umana parte dal corno d'Africa. Non chiedetemi perché partono sempre tutti da lì. Perché non lo sappiamo. Quindi anticipo una domanda. Perché non lo sappiamo, ok? Partono sempre da qua, da queste vallate. salgono su e vedete che ripercorrono sostanzialmente gli stessi tracciati dell'autofattrica precedente. Qui però le cose diventano più interessanti. Provate a pensarci. Perché quando escono i migranti della seconda ondata e arrivano in Medio Oriente, in Cina, qui vedete i pallini azzurri sono i nuovi. I pallini rossi sono i vecchi. Cosa succede? Uscendo fuori, incontrano i discendenti di quelli che erano usciti la volta prima. Capito lo schema? C'è la seconda ondata migratoria, arrivano in luoghi dove trovano i discendenti di quelli che erano usciti prima. E così i flussi migratori si stratificano. C'è la prima ondata, poi c'è la seconda, con vari tipi di relazioni tra le prime ondate e poi la seconda. Qualche volta si mescolano, qualche volta si sovrappongono, qualche volta i nuovi arrivati sostituiscono e scalzano i vecchi. E qualche volta invece quando arrivano i nuovi, i vecchi si sono già estinti da poco, come è successo in Europa, per esempio. Allora cosa succede? Di nuovo, in virtù di questa grande espansione, si formano nuove specie, l'especiezione geografica si dice, e per esempio qua in Europa, vedete tutti questi pallini azzurri, sono i luoghi dove nasce il Neandertal. L'uomo di Neandertal è il figlio di questa seconda grande migrazione. Ed è il figlio europeo, perché sapete che l'uomo di Neandertal era il vero europeo. L'autotono europeo era il Neandertal. Lui è nato qua, aveva la pelle chiara, capelli rossicci, biondastri, almeno nella parte occidentale dell'Europa. E nasce appunto qua l'Italia. Guardate soltanto, vi faccio solo una curiosità, 30 secondi, perché è interessante. Se guardate l'Italia da questo punto di vista, cioè questo è un ingrandimento della mappa precedente, sostanzialmente, un focus sull'Italia, qui vedete le paleocoste, che sono le coste che aveva l'Italia nelle fasi glaciali, quando i mari erano più bassi, anche di 70-80 metri. Vedete che il Po sfociava nell'Adriatico sotto Ancona, la Corsica è praticamente attaccata all'Isoadeba, la Corsica è attaccata alla Sardegna, il ponte tra la Sicilia e l'Africa è molto accessibile, abbastanza anche quello balcanico. Qui percepite chiaramente due fatti, che l'Italia è sempre stato un ponte tra sud e nord e tra est e ovest, ponte di passaggio, costantemente, di popolazione, di piante, animali e anche umane. In più l'Italia ha un vantaggio, che ha un vantaggio, dipende dai punti di vista ovviamente, cioè che il territorio è molto irregolare, con due catene montuose che si incrociano quasi perpendicolarmente, quindi un sacco di vallate chiuse e una grande escursione ecosistemica dalla Sicilia fino alle Alpi, naturalmente. questi due ingredienti, continui passaggi, irregolarità del territorio, isolamento e grande escursione ecosistemica, sono di solito dei motori di diversità e questo è il motivo per cui l'Italia ancora oggi, nonostante tutti i disastri che abbiamo fatto, è il paese con la più alta biodiversità, ok, di pianti, di animali. Ma questa cosa si applica anche agli umani, perché la penisola italiana, lo vedete da queste, in tutte le datazioni qua incrociate, è stata abitata nel corso del tempo dell'umanità da quattro specie umane, i primi arrivati dell'Autofefrica, l'Homo antecessor, i secondi arrivati, l'Homo e del Bergensis, suo figlio, l'Homo di Neandertal e poi, buoni ultimi, Homo sapiens. E in alcune occasioni queste specie umane hanno vissuto anche insieme nello stesso periodo in Italia. Quindi Italia è una penisola che è stata abitata da quattro specie umane, d'accordo? Questo per darvi l'idea della grande pluralità di storie che ci sono dietro qua. Questo è il signor Neandertal come lo abbiamo rappresentato nella mostra Homo sapiens, un signore di una certa età, bianco, di pelle, tutti i dati genetici che abbiamo riscontrato, che abbiamo rappresentato qui, che si è un po' un po' narcisista, si abbelliva il corpo con penne, piume, penne di rapaci, si faceva dei pendagli con dei bellissimi artigli d'aquila, si dipingeva il corpo con un'ocra rossa gialla, solo i maschi, tra l'altro, le femmine no, le donne neandertaliane no, i maschi invece erano molto attenti all'aspetto estetico, probabilmente per questione anche rituale e sociale. Questa è la terra dei Neandertal che vedete sopra anche estesa completamente, questa è tutta la reale distribuzione dei Neandertal, vedete che arrivavano fino ai monti Altai e naturalmente al Medio Oriente, che sono nati in Europa ma poi si sono abbastanza espansi in Eurasia. il Neandertal faceva cose interessanti, aveva una sua intelligenza simbolica, ormai siamo quasi sicuri di questo, le sepolture dei Neandertaliane sono ancora molto discusse, però forse in alcune occasioni seppelliva i suoi simili composizioni fetali, per esempio particolari, e forse ricoprendoli di fiori, come vi dicevo aveva un senso estetico, era un po' vanesio, e faceva anche cose strane, questa è una scoperta pubblicata su Nature nel giugno dell'anno scorso, quindi recentissima, questa è la grotta di Brunichel vicino a Tolosa, e a 300 metri di profondità dentro la montagna, dove c'è un imbocco, dove c'era un riparo di roccia abitato dai Neandertal, 170.000 anni fa, quindi sicuramente è Neandertal, non può essere Sapiens, il Neandertal in questa camera ha messo un focolare al centro, poi ha cominciato a staccare Stalactiti e Stalagmiti e si è messo a fare delle strutture regolari, circolari, concentriche. Non sappiamo che cosa vuol dire, non mangiava lì, non era un luogo facilmente accessibile, 300 metri dentro la montagna vuol dire che ci devi arrivare perché ci vuoi arrivare con una luce, con delle torce fatte con grasso animale, quindi questo solo per darvi un'idea della complessità del comportamento di questi altri umani diversi da noi e nostri cugini molto stretti. noi li abbiamo incontrati in Neandertal, ormai siamo sicuri, ci sono stati incontri ravvicinati di tipo preistorico, come è stato detto, e questi sono, vedete, i figli della seconda ondata, l'Eidelbergensis, il Neandertal e l'uomo di Denisova, che vi accendo soltanto dopo, un altro cugino neandertaliano vissuto in Asia. A questo punto, ed è l'ultima parte della mia storia, poi lascio a voi la parola, entra in scena Homo Sapiens, finalmente. Però, con questa premessa, adesso spero sia più chiaro cosa succede quando arriviamo a noi. Innanzitutto, quando arriviamo a noi, il mondo è pieno di specie umane diverse da noi. Ok? Questa è una cosa molto importante. Noi nasciamo in Africa, di nuovo, sempre da quelle parti là, corno d'Africa, e, buoni ultimi, usciamo dall'Africa. E questa è la terza out of Africa, la terza grande espansione fuori dall'Africa. È cominciata circa 120.000 anni fa. Attenti alle date, così, se riusciamo a ricostruire bene le date, avete capito il segreto di tutta questa storia. 120.000 anni fa. Cominciano ad uscire e non la smetteranno mai più. Escono a un date, continuamente. Escono dall'Africa, esseri umani come noi, con la nostra anatomia, esattamente come la nostra. Da quel momento in poi non ci sono stati grandi cambiamenti nella nostra conformazione. E, naturalmente, appena escono, già arrivati, già soltanto nella Valle del Giordano, incontrano i Neandertal, che stavano lì da un sacco di tempo prima. Ci abbiamo vissuto insieme, abbiamo convissuto lungamente, c'è chi calcola anche 20-30.000 anni, forse, 30.000 anni, non sono pochi. Nella regione, nel Monte Carmelo, per esempio, abbiamo visto che c'erano zone abitate abitate dai sapiens e dai Neandertal, abbastanza vicine, quindi, insomma, erano lì insieme. Non sappiamo se ci sono stati i contatti culturali, ma sappiamo che ci sono stati i contatti fisici. Quelli sì, perché qui vedete i sapiens, poi vanno in Europa, naturalmente, ma dopo, a partire da 45.000 anni fa, 45.000, che è la data del mammut, ok, arrivano i primi sapiens in Europa. Quindi noi, ma questo lo sapete già, noi sapiens, noi adesso europei, siamo immigrati in Europa circa 42-45.000 anni fa, ok, e siamo tutti figli di immigrati di colore, peraltro, perché a quel tempo la pelle era scura per tutti, d'accordo? Quindi noi siamo figli di immigrati di colore, scusate per questa cosa, non so se vi piaccia o dispiaccia, ma è un dato di fatto, ok, poi siamo andati in Asia, siamo arrivati sui Monti Altai, siamo andati poi in tutto il mondo, d'accordo? Qui vedete il nostro luogo d'origine, Sampis è nato qui, tra 195 e 200.000 anni fa, siamo molto precisi, perché abbiamo i dati molecolari che parlano molto chiaro, e poi ci siamo espansi in tutto il mondo, ancora una volta, vedete con queste frecce, vedete tutte le varie ondate di uscite fuori dal mondo, e, attenzione, l'ultima di queste ondate, quella che porta fuori i nostri antenati diretti, è partita da qui 60.000 anni fa, ci porta in Medio Oriente, in Asia, poi vedete che ha preso subito la via orientale, arriva nel Borneo, Sumatra, Java, passa di qui, e arriva poi in Nuova Guinea, e passa anche da sotto, le isole della sonda, ed entriamo nella terra di Harnheim, in Australia. Vedete tra l'altro che nelle fasi glaciali, la Nuova Guinea, l'Australia, la Tasmania, erano tutte unite in un unico supercontinente. Quelli che entrano lì la prima volta diventano gli antenati degli aborigeni australiani di oggi, d'accordo? Sono sapiens, come noi, i figli di questa migrazione. A questo punto, arte rupestre qui, a 45.000 anni fa, non ci sorprende più, perché chi sono quegli artisti dei Sulawesi? Sono gli africani, usciti 60.000 anni fa, che hanno preso questa strada, e prima di arrivare in Australia, hanno fatto tappa a Sulawesi. Guardate che è un bel viaggio, guardate quanto siamo stati mobili, sempre noi, Homo sapiens. E quindi, qua vedete l'ingrandimento, queste sono le vie di ingresso in Australia, quella superiore, passa per Sulawesi, e qui è stata trovata l'arte rupestre, che vi ho fatto vedere prima. Il che significa che quegli migranti, quei pionieri, sapiens arrivati lì, già erano capaci di fare arte rupestre. Quindi da qualche parte l'avevano imparata prima a fare quelle cose, no? E questa è un po' l'ipotesi su cui noi stiamo lavorando. Quindi vedete, questa di nuovo, a questo punto, questa scoperta si colloca in questo quadro di migrazioni umane e il paper, adesso non voglio leggere, non importa, si concludeva dicendo i casi sono due per spiegare come mai ci sono degli artisti che fanno arte rupestre a Sulawesi o quelli che la fanno a Sulawesi la inventano per conto loro indipendentemente da quelli che la fanno in Europa e questa sarebbe convergenza culturale. Cioè, due popoli che in due posti diversi della Terra inventano la stessa cosa. È possibile, è successo tante volte, non è molto parsimonioso, cioè non è proprio una cosa semplice da spiegare, però potrebbe succedere. Oppure, questa è la seconda ipotesi che vedete qua a destra, dicono gli studiosi, quelli che la fanno qui in Europa e quelli che la fanno a Sulawesi in realtà sono gli stessi, sono il stesso gruppo e sono lo stesso gruppo di africani usciti poco prima dall'Africa che quindi l'arte rupestre, il linguaggio, l'intelligenza simbolica non se la sono inventata in Europa o Sulawesi, ma se la sono inventata in Africa e poi se la sono fisicamente portata fuori dall'Africa. Quindi questa è l'ipotesi cosiddetta demica che era stata formulata da Cavalli Sforza diversi anni fa e che noi oggi finalmente abbiamo i dati per confermare. E così chiudo gli ultimi cinque minuti se avete ancora pazienza poi lascio la parola a voi con l'ultimo piccolo pezzetto della nostra storia perché a questo punto forse abbiamo gli elementi per rispondere a quella domanda di prima. Perché siamo soli qui? Non ci eravamo messi d'accordo con Giovanni ma era proprio il punto su cui volevo chiudere. Questa solitudine va spiegata. Non possiamo più darla per scontata. Aggiungiamo un pezzettino. Mentre Homo sapiens fa tutte queste migrazioni uccide il mammut fa l'arte rupestre sulla Wesi in giro per il mondo ci sono altre forme umane che se la cavano benissimo questo è il punto fondamentale. Se la cavano benone Neandertal era estremamente adattato all'ambiente europeo intelligente una vasta popolazione se la cavano benone e quando arriviamo noi altro indizio interessante quando arriviamo noi per esempio in Medio Oriente in Europa non è che loro spariscono immediatamente viviamo insieme con loro per un lunghissimo periodo e allora perché alla fine siamo rimasti da soli? Non è assolutamente facile rispondere a questa domanda adesso ci provo con qualche indizio allora questo è l'hobbit indonesiano che vi ho fatto che avevo accennato prima è quella specie rimasta bloccata sull'isola di Flores discendente dalla prima espansione fuori dall'Africa due milioni di anni fa è una storia bellissima questa è la grotta di Liangbua che è una grotta sperduta dentro questa isoletta indonesiana Flores che è vicino all'isola di Komodo dove ci sono i draghi di Komodo forse avrete visto qualche documentario vicino a Bali Lombok da quelle parti lì e in modo del tutto casuale gli antropologi stavano cercando tutt'altro nel mio campo di studi la serendipità è di norma cioè uno sta cercando qualcosa e trova qualcosa di completamente diverso è un classico qui stavano cercando resti umani sapiens di una certa epoca trovano un'altra forma umana completamente diversa da noi un nostro cugino molto alla lontana che vivendo su un'isola piccola come succede a tutti gli animali molto grandi si è rimpicciolito ed è diventato partendo da un home erectus o forse da una specie ancora più antica come avendo sbagliato il lavaggio in lavatrice si è rimpicciolito tutto proporzionalmente è diventato un piccolo della metà ok e questo è l'homo floresiensis che è una storia molto particolare anche perché qui vedete la comparazione tra il floresiensis e il sapere anche il cervello si è rimpicciolito è un cervello di 500 cm3 quasi un terzo poco più di un terzo del nostro vedete che è un piccolo ramoscello secondo Nature che è venuto fuori all'inizio dell'evoluzione di home erectus o forse addirittura anche un pochino prima noi pensiamo oggi ed è una bellissima storia di diversità nel senso che è proprio una specie umana completamente diversa da noi sulle isole poi succedono cose strane perché questo è l'homo floresiensis questa è una cicogna alta 1,92 m che abitava sull'isola di Flores sull'isola di Flores ci sono dei ratti lunghi un metro ok nel senso che sulle isole succedono cose strane gli animali piccoli diventano grandi quelli a sangue caldo con predatori gli animali grandi a sangue caldo quindi con un metabolismo esigente tendono a diventare piccoli sembrano storie da Galliver o storie da Voyager di Giacobbo e invece è scienza questo va tolto dalla registrazione se no poi si offende ok quindi la migrazione vedete che arrivano su Java e questi sono figli di questa seconda di questa prima ondata che poi speciano su isola di Flores e non abbiamo prove dirette di questo ma molti indizi sì se fate due conti noi siamo arrivati in Africa e scusate in Australia almeno 55.000 anni fa 52 al massimo pensate che l'omino di Flores gli ultimi esemplari sono morti si sono estinti su quell'isola 50.000 anni fa quindi ci sono delle buone possibilità che noi l'uomo di Flores lo abbiamo incontrato lo abbiamo siamo passati di lì perché come avete visto siamo passati da sopra ma siamo passati anche da sotto e quindi siamo sicuramente passati da Flores indizio interessante noi siamo arrivati in Australia a 55 Flores non ce la fa più a 50 che ci sia un rapporto di causa-effetto arriviamo noi guarda caso sparisce l'uomo di Flores è possibile questo adesso le datazioni coincidono l'altra specie umana vado veloce scoperta recentemente invece sui monti Altai in questa zona bellissima nella Siberia meridionale tra il Kazakistan la Russia e la Mongolia adesso ricchissima di risorse lì ci sono arrivati i Neandertal più tardi ci sono arrivati i Sapiens ma 40.000 anni fa in una datazione molto recente in questa grotta nella grotta di Denisova vivevano hanno scoperto che viveva un'altra forma umana l'uomo di Denisova cugino del Neandertal e scoperta interessantissima scoperta attraverso le molecole prima che non dei fossili con i fossili in pratica hanno tirato fuori un mignolo da uno scheletro femminile pensando che fosse o di Neandertal o di Sapiens gli hanno tirato fuori il genoma e hanno scoperto che non era né di Sapiens né di Neandertal hanno scoperto un fattaccio nel senso che lì c'era una specie umana sconosciuta poi abbiamo trovato qualche dente qualche altro frammento ma si sa ancora pochissimo di questa forma che abitava vedete da queste parti qua poi arriva il Neandertal e ci vive insieme poi arriva il Sapiens e ci vive insieme quindi sui monti Altai allegramente convivevano tre specie umane nella stessa zona ok poi però attenzione il Neandertal sparisce da qui proprio intorno a 40.000 anni fa poi sparisce anche dall'Europa e gli ultimissimi Neandertal sopravvivono a Gibilterra e poi scompaiono anche lì al massimo hanno resistito fino a 38.000 anni fa l'uomo di Denisova scompare a 40.000 anni fa 5.000 anni prima dei Sapiens cacciano il Mammut che è proprio voi prendete la valle dello Ienisei che parte all'incirca da qui andate su e arrivate esattamente lassù nel mare Artico mobilità adattabilità forse invasività cioè quando e così vengo al dunque poi chiudo probabilmente quello che noi pensiamo è che a un certo punto quando è uscita l'ultima ondata 60.000 anni fa quei Sapiens lì erano dei cacciatori raccoglitori con delle capacità di mobilità adattabilità e invasività molto maggiori di quelle che di tutte le specie umane precedenti e tutti gli altri umani sono rimasti spiazzati perché erano abituati a convivere con dei Sapiens con i quali si poteva diciamo discutere cioè con i quali si poteva convivere anche nello stesso territorio a un certo punto esce un'ultima ondata di Sapiens con i quali invece non si può più discutere tant'è vero che non c'è più storia per tutti gli altri probabilmente le cose sono andate così naturalmente questo apre nuove domande nel senso cosa diavolo avevano questi Sapiens di nuova generazione che Tattesal Ian Tattesal ha chiamato Sapiens 2.0 perché questi qui escono fuori dall'Africa e non c'è più storia per nessuno arrivano in Australia sempre questi e scompaiono decine di mammiferi di grossa taglia fatti fuori tutti mangiati uno fino all'ultimo arrivano nelle Americhe a partire da 20 22.000 anni fa e tu li vedi proprio scendere dall'America del Nord America Centrale America Dinale quando arrivano loro spariscono anche lì decine di specie di mammiferi di grossa taglia cioè è evidente che da quel momento in poi c'è in giro una serie di popolazioni Sapiens che si comportano diversamente da quelle che c'erano in giro prima la domanda alla quale oggi cerchiamo di rispondere ma non abbiamo la risposta è cosa avevano questi Sapiens di più di quelli che c'erano stati prima qui non sappiamo rispondere quindi posso andare veloce questo lo sapete già mentre succedeva tutto questo ci siamo accoppiati con i Neandertal ci sono stati incontri ravvicinati adesso sappiamo anche dove è successo il fattaccio è successo in Medio Oriente qui e probabilmente anche nella zona Balcanica qui abbiamo avuto un colpo di fortuna pazzesco in questo sito che è un sito rumeno di Passara Quause abbiamo trovato hanno trovato un Sapiens un maschio morto 38.000 anni fa molto ben conservato non con le parti molli lo scheletro la fossilizzazione molto bene molto buona hanno tirato fuori il DNA completo e gli hanno trovato dentro nel DNA sequenze Neandertaliane per l'11% 11-12% il che tornando ai nonni di prima vuol dire che quel signore lì morto in Romania 38.000 anni fa ha avuto un trisavolo Neandertal che si è unito a una trisavola Sapiens e lui viene fuori anche da questo incrocio tra una donna Sapiens e un maschio Neandertal o viceversa quindi ci sono stati anche accoppiamenti e ibridazioni tra le diverse specie umane sia con il Neandertal che con il Denisova perché loro non ci sono più la risposta potrebbe essere questa perché a un certo punto è uscita una specie invasiva possiamo usare questo termine anche se si usa per dei zanzari tigre e per altri simpatici animaletti ma anche noi lo siamo stati vedete che l'anatomia fin dall'inizio era la nostra con poche modifiche i percorsi sono questi tracciati la final wave vado veloce vi faccio soltanto vedere gli oggetti che ci hanno permesso anche di ricostruire questi tracciati li trovate prima in Sudafrica perché noi pensiamo che il punto di partenza di questa ultima ondata sia stato il Sudafrica in particolare abbiamo delle evidenze molecolari che ci portano a pensare questo ma poi anche non c'è niente da ridere ho scelto un Homo sapiens qualsiasi tra i 7 miliardi presenti sulla Terra c'è qualche somiglianza non so perché ridete l'ho scelto a caso forse tra questi due ma non lo so questa è una scoperta di qualche anno fa quando il presidente Trump non pensava ancora di presentarsi per le elezioni americane ne avrebbe mai sognato di diventare presidente degli Stati Uniti ma già si sapeva una cosa interessante che se voi fate una comparazione genetica tra tutti i nostri cugini più stretti oranghi, gorilla e scimpanze di due specie con noi notate una differenza macroscopica tutti i nostri cugini hanno una variabilità genetica abbastanza buona abbastanza alta Homo sapiens invece ha una variabilità genetica bassissima tutti e 7 miliardi esseri umani che oggi abitano sul pianeta Terra hanno una variabilità genetica media molto bassa le differenze medie tra due individui si collocano nell'uno due per mille di tutte le basi nucleotidiche del nostro DNA quindi questo tra l'altro significa che voi siete geneticamente identici a Donald Trump tranne che per uno per mille delle vostre basi nucleotidiche quindi c'è poco da ridere naturalmente voi io mi escludo da questo novero naturalmente ma anche questo va spiegato come mai la popolazione umana di oggi tutta ha una variabilità genetica così bassa sapete come si spiega si spiega perché siamo partiti da pochi da un gruppo molto piccolo e forse anche in altre fasi della nostra storia evolutiva siamo stati molto pochi e questo per un fenomeno evolutivo chiamato collo di bottiglia e poi effetto del fondatore ha abbassato la variabilità genetica umana e pensate che tutto è partito vedete da questo punto e questa popolazione che sono le popolazioni koisan di oggi quelle che una volta si chiamavano boshima in 88 sono la popolazione con la più alta variabilità genetica e quindi sono la popolazione che noi pensiamo sia più strettamente legata al punto di origine cioè dove è partita l'ultima grande espansione e migrazione fuori dall'Africa e quindi vedete il meccanismo è un po' questo all'inizio c'è tanta variabilità poi migrando di piccolo gruppo in piccolo gruppo la variabilità diminuisce nel corso del tempo man mano che ci si espande allora adesso possiamo tirare le file e chiudere vedete partiti da qua qui non a caso troviamo i primi oggetti con indizi di intelligenza simbolica da qui ce la siamo portata letteralmente dietro siamo usciti dall'Africa siamo arrivati qua questo ramo di sapiens va in Asia e qui c'è l'arte rupestre sulla Wesi altri i cromagnon entri in Europa e qui c'è l'arte rupestre europea quindi vedete che i conti tornano abbastanza i dati molecolari archeologici e paleoclimatologici funzionano e quindi questi comportamenti pituiti rupesti strumenti musicali di sepoltura rituali sono tipiche della nostra specie che forse come dire nasconde in questa storia tutta la sua ambivalenza e finisco su questo messaggio e poi lascio la parola a Giovanni e voi perché un messaggio assolutamente interessante che emerge da qua è questo Homo sapiens deve il suo successo all'adattabilità motilità l'abbiamo già detto ovvero alla sua creatività alla sua capacità di immaginazione non l'ho detto prima ma è ovvio per cacciare in modo così efficiente quel mammut quel gruppo umano la sera prima si è messa d'accordo che doveva fare certe cose ha pianificato ha immaginato per fare questo ci vuole il linguaggio articolato per forza provate a fare questa cosa qua a gesti o con vocalizzi provate i linguisti sostengono che soltanto con il linguaggio articolato tu puoi conquistare una terra che non vedi andare in un posto tornare indietro e spiegare agli altri che cosa hai visto decidere la sera prima che la mattina dopo ci si sveglia alle 6 si parte all'alba e si va a cacciare un mammut solo il linguaggio articolato ti permette di fare questo quindi noi pensiamo che forse il segreto di molte di queste storie è proprio la capacità linguistica e il linguaggio articolato ma tutta questa straordinaria capacità creativa e immaginativa va di pari passo con la nostra capacità invasiva con la capacità di modificare di perturbare e anche di impoverire gli ambienti che incontriamo e questa ambivalenza è filosoficamente uno dei messaggi più importanti di questa storia noi siamo una specie creativa e distruttiva al contempo e tutto sommato questa è una storia che invece ci tocca da vicino perché in fondo provate a pensare quanti esempi vi vengono in mente di questa nostra capacità creativa e distruttiva al contempo chiudo con un invito qui c'erano solo altre immagini ma un invito a cui tengo molto se passate per Roma siete in giro per Roma fino al 18 di giugno al palazzo delle esposizioni in via nazionale c'è una grande mostra tutta dedicata alla genetica alla genomica alla storia della scoperta delle leggi di Mendel e poi del DNA delle mutazioni con oggetti provenienti da tutto il mondo c'è la pecora Dolly originale potete ammirarla il feticcio della pecora Dolly della pecora clonata e tante altre ricostruzioni expi interattivi insomma ci si diverte portateci anche i vostri ragazzi i vostri figli perché ne vale la pena grazie adesso passo la parola a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti